Simone Parodi in vista della partita che vedrà l'Abbama, questo è Bernardo Cuno impegnato sul campo di Ravenna. Simone, Cuno arriva da due vittorie consecutive al Tyber, ci sono stati segnali importanti di risposta dopo un periodo difficile. Al di là delle difficoltà, la discontinuità di prestazione che resta, sono state due vittorie che hanno dimostrato che Cuneo c'è e che ha il carattere giusto per affrontare questo giro di ritorno. Ma sì, Cuneo c'è come hai detto tu, secondo me a parte la prima vittoria di trasferta che è stata molto importante, ma secondo me le ultime due partite abbiamo espresso un buon livello di gioco, quindi dobbiamo cercare di tenere quello. L'abbiamo, secondo me, avuto una buona aggressività in battuta, in difesa e quello penso sia la cosa importante. E poi vi siete tolti appunto questo peso, questo tabù, l'avete sfatato finalmente, forse un po' in ritardo, ma ce l'avete fatta. In trasferta, questo è un buon segnale perché cominciava a diventare veramente un po' pesante come situazione. Sì, stava cominciando ad essere un po' pesantina perché forse non so se era mai capitato che una squadra non avesse mai vinta in trasferta e ci pesava un po', è inutile negarlo, però siamo contenti di averlo fatto in questo modo perché l'abbiamo fatto con un 3-2, importante appunto, vincendo con l'atteggiamento, con l'aggressività che forse molti ci stavano criticando, giustamente perché non ce l'abbiamo avuta, non un'aggressività, però non riuscivamo ad esprimerci come forse facevamo un allenamento, quindi siamo contenti di averlo fatto e adesso dobbiamo andare a Ravenna e cercare di portare a casa due punti importanti. Queste due partite si è visto anche con Simone Parodi in crescita, come stai, come ti senti questa fase della stagione? Ma in crescita, secondo me non sono cambiato tanto a livello fisico, ma forse tutte un po', ma non critiche, non voglio dire critiche perché, anzi, forse ce ne sono arrivate ancora poche per come stavano giocando, però secondo me io, come miei compagni, abbiamo entrato fuori quel qualcosina in più che ci ha fatto esprimere una pallavolo migliore. Adesso c'è Ravenna, altra partita importante, ma lo sono tutte, perché questo è un campionato veramente molto combattuto, che partite ti aspetti e che avversaria questa Ravenna? Innanzitutto la affrontiamo fuori casa e quindi sarà dura. È una squadra giovane, una squadra giovane che gioca a meno a pallavolo e la affrontiamo appunto fuori casa, quindi dobbiamo stare ancora più attenti. Speriamo appunto con la vittoria che abbiamo fatto a Lago Negro di avere un po' invertito la rotta e di fare una buona partita tranquilli. Non dico che sia semplice, però secondo me se giochiamo, come sappiamo, possiamo portare a casa dei punti importanti. Che genere di ritorno e che fasi decisive della stagione regolare ti aspetti in questo campionato in cui le carte si mescolano di continuo e quindi non è neanche facile capire al di là di Bibo, al di là insomma delle primissime. Poi c'è veramente una grande bagarre, tu cosa ti aspetti? Ma guarda, io penso che quest'anno non ci sia, come hai detto tu, primissime ci sono dal punto di vista proprio di classifica, però forse non c'è una squadra che è imbattibile, è una squadra molto forte. Sono tutte squadre che giocano bene a pallavolo, squadre che hanno giocato un pochino meglio, ma mi aspetto una squadra con un livello di gioco più alto rispetto al giorno d'andata e quindi secondo me possiamo dire la nostra.